Ciao, sono le sei e noi suoniamo una canzone nel nostro cortile nel nostro giardino qui c'è il nostro cane Leo e la nostra cagnolina da qualche altra parte perché vogliamo felicemente aderire a questa bella iniziativa di suonare qualcosa fuori sul balcone in giardino per combattere un po' la tristezza e l'oppressione da coronavirus. Sì. 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 Ciao. Sì. Leo, la camera è lì. Leo. Leo. Ciao.